buongiorno a tutte amiche 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 allora come mi ha fatto notare la mia amica maria rosa vi ho parlato dell'uncinetto tunisino vi ho fatto vedere alcuni punti ma non vi ho detto come si fa il punto base allora mi dovete perdonare ma siccome ci sono tantissimi video sul web pensavo erroneamente pensavo che magari molte di voi lo conoscessero comunque non c'è nessun problema ve lo mostro subito allora intanto facciamo il nostro cappietto il cappietto si fa così io lo faccio così e avviamo le catenelle e ne facciamo quante ne vogliamo dipende dal nostro dal nostro progetto dipende da ciò che vogliamo fare adesso io sto usando l'uncinetto della adi numero 5 allora siamo a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ne faccio ne faccio solo 10 giusto per farvi vedere come si lavora allora dobbiamo entrare non nella prima catenella non in questa ma in questa entriamo raccogliamo il filo e usciamo e così e lo tenere il filo lo teniamo ovviamente sull'uncinetto entriamo raccogliamo e usciamo e lo facciamo per tutti e per tutte e 10 le catenelle oggi non so perché c'è più caldo del solito ma io vi giuro guardate ho le maniche lunghe sto gelando sarà che stanotte ho preso freddo ma non ce la facevo a rimanere a maniche corte i miei sono tutti a maniche corte io ho veramente tanto tanto freddo non può essere febbre perché non può essere allora vediamo un po allora 2 4 6 8 e 10 e abbiamo le 10 catenelle che le abbiamo e le abbiamo portate sul sul nostro uncinetto tunisino oggi ho usato questo perché di numero 5 o solo questo allora cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere il filo sull'uncinetto e uscire dal primo cappietto rimettiamo il filo sull'uncinetto e stavolta ne togliamo due e così fino alla fine per cui filo sull'uncinetto due filo ho detto filo sull'uncinetto altre due filo sull'uncinetto di nuovo due filo sull'uncinetto altre due filo sull'uncinetto altre due 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 e due adesso ci sono due scuole di pensiero quelle che prevedono di fare una catenella e altre che non la fanno io sinceramente la faccio sempre faccio una catenella e poi parto col lavoro vero e proprio che consiste nel passare in questa aspetta che guardo se in questa astina che resta dritta ed esposta in avanti per cui entro e raccolgo il filo entro e raccolgo il filo e di nuovo entro e raccolgo il filo e così fino a a terminare il nostro giro io spero sempre di essere chiara vi giuro mi è sfuggito completamente che di non aver fatto un video col punto base per l'uncinetto tunisino ma non lo so non lo so perché non l'ho fatto comunque sto rimediando in questo momento entro di nuovo ed esco adesso qui c'è l'ultima astina io di solito la prendo con con quest'altra cioè in pratica nel lavoro due prendo questa la sfilo e ho di nuovo i miei punti sull'uncinetto adesso di nuovo ne tolgo prima uno ricordatevi sempre il primo è sempre da solo e poi due ancora due due io adoro da quando scoperto l'uncinetto tunisino veramente lo faccio sto cercando di fare tantissime lavorazioni quali magliette magliette perdonatemi canottiere per questa per quest'estate infatti sto usando tantissimo cotone in questi giorni mi dovrebbe arrivare anche un carico di lana vedete guardate che che meraviglia che questo punto che poi è il punto base perché poi da qui partono tutti gli altri quelli che prevedono di prendere questo e in più questa costina quelli che prevedono di prendere il punto così e di lavorarlo veramente ci sono tantissime 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 varianti io spero di essere stata chiara vi chiedo ancora scusa per non averlo fatto prima pensavo di averlo fatto di averlo anche postato ma così non è vi ringrazio per avermi seguito ringrazio alla mia amica per avermi redarguita e noi ci vediamo al prossimo video ciao